Data alle fiamme l'auto dell'amministratore della farmacia Cipolla Vincenzo Scichilone. È accaduto la scorsa notte a Gela, in via Meli, nella zona di Caposoprano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo che aveva avvolto l'Audi A4 del professionista. Quest'ultimo ha postato sul proprio profilo Facebook la foto dell'auto danneggiata. Probabile che a breve si riesca a dare un volto e un nome agli autori dell'attentato incendiario. Nella zona sono infatti presenti alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero avere filmato i responsabili. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Scichilone, alcuni mesi fa, nonostante fosse rimasto ferito, era riuscito a mettere in fuga alcuni rapinatori che avevano scelto come obiettivo la farmacia di cui è amministratore. Se è stato un tentativo di intimidazione non è riuscito, recita il post che campeggia nel profilo Facebook della farmacia Cipolla.